La discarica di Valle Cupa continua a impuzzonire la Val Vibrata. Il tanfo è percepito dai cittadini di Colonnella, Controguerra e Martinsicuro. Per questo il Partito Democratico ha presentato l'ennesima interrogazione al presidente della Giunta regionale Marsilio e all'assessore competente Campitelli. Basta bugie, tuona il vice capogruppo del PD Dino Pepe, avete tradito i cittadini. Attraverso le nostre interrogazioni consigliarie in Regione Marche e in Regione Abruzza avevamo chiesto ai nostri rispettivi assessori all'ambiente quando la vicenda dei cattivi odori di Colonnella sarebbero terminati. Abbiamo atteso in vano purtroppo l'ulteriore scadenza del 31 ottobre e siamo all'11 novembre e i cattivi odori ancora continuano ad offendere i cittadini, le imprese, i lavoratori, i sindaci di quel territorio. Anche i sindaci sono scesi in campo per tutelare le proprie comunità. L'assessore Campitelli insieme ai colleghi di maggioranza di Matteo e D'Annundis sono venuti in Val Vibrata per promettere che entro il 31 ottobre il dramma sarebbe finalmente terminato. Purtroppo non è così. I cittadini sono stati buggerati e sono stati traditi ancora una volta da questa Giunta regionale. Per questa ragione ho presentato un'ulteriore interpellanza per sapere quando e come finiranno i cattivi odori a Vallecupa di Colonnella.